La strada provinciale dell'Alta Val Trebbia, sulle alture di Genova, già chiusa da due settimane a seguito di pericolo di cedimenti, dopo la recente ondata di maltempo, questa mattina è crollata fra Propata e il Bivio di Caprile. Il muro di sostegno della strada che si affaccia sul sottostante torrente aveva già dato segni di cedimento, tanto da suggerire la chiusura della provinciale e questa mattina è improvvisamente collassato facendo sprofondare tutta la sede stradale per un ampio tratto. Una situazione molto simile a quella accaduta lungo la provinciale che collega Dolce Acqua e Rocchetta Nervina con la fondamentale differenza che in questo caso esistono vie alternative e non ci sono paesi isolati. I tecnici della città metropolitana di Genova avevano già avviato la progettazione dell'intervento e oggi si è tenuto un summit con il sindaco di Propata Renato Cogorno e l'assessore regionale della protezione civile Giacomo Giampedrone. L'obiettivo è quello di cercare di riuscire a ripristinare la viabilità entro i primi mesi del nuovo anno. Il Consiglio Comunale di Imperia è stato convocato per venerdì a partire dalle 18 e fra le pratiche scritte all'ordine del giorno alcune fanno diretto riferimento al potenziamento della società comunale Coimperia. Il parlamentino infatti fra le altre cose dovrà adeguare lo statuto della GO per consentire alla stessa di gestire l'heliporto, la sala operativa della videosorveglianza cittadina e di poter anche operare nell'ambito della promozione turistica anche attraverso l'organizzazione di eventi. Sempre in merito al porto turistico il Consiglio delibererà anche la proroga di un anno del titolo concessorio in attesa di ottenere una concessione pluriannale e programmare quindi gli investimenti da effettuare nel bacino e non solo. Insieme alla proroga della concessione vi sarà anche il rinnovo del contratto di affitto con rapporto di Imperia Spa per garantire l'occupazione ai 30 dipendenti del bacino turistico. Le pratiche vedono quindi di fatto un potenziamento della Coimperia e dei suoi scopi tale da renderla una multi servizi in grado di svolgere in modo più snello rispetto alla struttura comunale compiti di diverso tipo connessi alla sicurezza e allo sviluppo futuro della città. Nella seduta di venerdì il Consiglio comunale fra le altre cose sarà chiamato anche ad approvare dei debiti fuori bilancio connessi a somme urgenze per danni causati dal maltempo e a discutere una mozione del consigliere Guido Abbo volta all'azzeramento dell'imposta di soggiorno nei mesi invernali e due mozioni del PD, una per sostenere iniziative per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo e l'altra per riconoscere la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Assessore Volpe, anche il Comune di Imperi ha aderito a questa iniziativa regionale, il maggiordomo di quartiere, ma tradotto che cosa vuol dire e come verrà messa in atto? Semplicemente la parola è molto esplicita in questo caso, noi abbiamo già il buon vicinato, tutte quelle attività che si possono fare per le persone che hanno un po' di difficoltà, specialmente gli anziani o i disabili a domicilio, il maggiordomo di quartiere praticamente allarga un po' il campo, è quella figura che possiamo introdurre in un sistema, in un quartiere o in un comune piccolo che va a fare quelle piccole incombenze che le persone di cui hanno bisogno, gli anziani, la spesa, la farmacia, l'accompagnamento, magari qualche visita e anche la guardiania dal punto di vista della salute di quella persona, potendo avvertire se ci sono problematiche. Quindi è una figura che si viene a introdurre in un sistema già consolidato, che è quello del buon vicinato, è una figura ed è un progetto che sia come Comune di Imperi che come distretto sanitario abbiamo favorevolmente accolto e infatti proprio in questi giorni abbiamo approvato questa linea. Elio Di Placido, sindaco di Santo Stefano al Mar, allora Santo Stefano cittadina turistica che guarda all'estate, sì ma non solo perché anche alla fine dell'anno sarà spumeggiante dalle vostre parti, è così? Sì, quest'anno abbiamo intenzione di ripetere la bella esperienza del Capodanno in piazza, è il terzo anno consecutivo e ogni anno dà sempre migliori risultati e siamo fiduciosi che anche quest'anno potremo offrire per i residenti e i graditi ospiti una serata in piazza da passare insieme a dei gruppi musicali con un buon intrattenimento e un migliore inizio per l'anno nuovo che verrà. Ecco ma lei sa che a fine anno bisogna fare anche un po' di bilanci, allora com'è andata a Santo Stefano? No, a Santo Stefano è andata bene ma i bilanci più profondi e più spessi li faremo un pochino più avanti perché questo praticamente è l'ultimo anno del mio mandato e quindi è tempi di bilanci non solo annuali ma bilanci di mandato e quindi mi riservo nei prossimi due mesi di fare questo esame. Traffico in tilt questa mattina in Peri e in via Felice Musso per un camion rimasto in bilico con le ruote posteriori sul rio Livetto mentre stava effettuando una svolta per rimettersi nella stessa via Musso. Il mezzo è rimasto in pratica incastrato fra un muro laterale della strada e la sponda del rio impegnando di traverso l'intera sede stradale impedendo il passaggio di auto e pedoni. Per fortuna sono prontamente intervenuti con un muletto i tecnici del vicino deposito dell'Alpitel che nell'arco di una ventina di minuti con prontezza e professionalità sono riusciti a spostare una ringhiera e a fornire all'autista del mezzo pesante le indicazioni necessarie ad uscire dalla situazione di stanno in cui si era ritrovato. Tutto si è quindi risolto nell'arco di poco tempo e senza danni. Un progetto già approvato dal comune prevede l'allargamento del rio Livetto di via Felice Musso con la strada che andrà a sbalzo sul corso d'acqua e con la strada di quando questo intervento sarà stato realizzato la situazione viabilistica potrà certamente migliorare. La neve è arrivata abbondante, più del previsto, e già troppe sono le vittime delle cime bianche. Valanghe e Slavine sono una possibilità non remota, visto le escursioni termine che è decisamente anomale. La stagione sciistica è iniziata prima del previsto e per le feste di Natale, in molte stazioni invernali, si registra già il tutto esaurito. Ma se nel fuori pista si annidono pericoli, a ogni scivolata non sono da sottovalutare i possibili incidenti sulle piste regolari. Là dove non ci sono appositi percorsi per gli snowboard non è del tutto difficile rischiare, nella migliore delle ipotesi, le gambe. Poi ci sono i soliti fuoriti testa che si lanciano a tutta velocità dai ripidi pendii senza minimamente tener conto di possibili ostacoli di percorso. Il più delle volte a farne le spese sono i principianti, gli sciatori, che tranquilli scivolano verso valle senza troppe pretese e soprattutto attenti a non cadere. Ma ci sono anche i soliti nonni o genitori che per stare accanto ai loro piccoli campioni invadono le piste a piedi. Non servono i cartelli di divieto. Così, dopo l'assicurazione obbligatoria per chi scia, adesso c'è anche la multa per chi cammina sulle piste. La prima stazione di sport invernale ad applicare la norma è Alagna, dove chi utilizza in modo improprio le piste dovrà sborsare 50 euro di multa. Il primo passo riguarda le piste di fondo, poi toccherà le altre. Gli italiani, come si sa, non rispettano il codice della strada. Difficile immaginare che possano rispettare il codice dello sci. San Lazzaro Lazzaro è colui che è stato richiamato dalla morte con due imperativi decisivi, alzati e cammina. Viveva in Giudea, vicino a Gerusalemme, con le sorelle Marta e Maria, era in buoni rapporti con i romani ed era amico di Gesù. Un giorno si ammalò gravemente e Marta e Maria si precipitarono a cercare Gesù, che quando arrivò, lo trovò morto. Gesù si recò alla sua tomba e lo chiamò. Poco dopo, preceduto dal fetore della morte, Lazzaro apparve sulla soglia vivo. Pressoché sconosciuto è l'epilogo della storia di Lazzaro, l'uso che egli fece della sua seconda vita. È patrono di Marsiglia. Per l'omonimia col mendicante della parabola del ricco Epulone, è patrono dei mendicanti dei lebrosi e degli ospedali, è invocato contro la peste. La legge di bilancio 2020 riceve il primo via libera parlamentare. Il Senato infatti l'ha approvata con 166 sì e 128 no. Fa discutere la decisione di Elisabetta Casellati di dichiarare inammissibile la norma per legalizzare la cannabis leggera. Il centrodestra l'applaude, maggioranza e governo protestano e il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni da Presidente del Senato. Il testo ora deve essere approvato dalla Camera, blindato, senza più modifiche, per essere approvato a ridosso del Natale. La manovra 2020, dopo le modifiche approvate in Senato, potrebbe salire e toccare i 32 miliardi e quanto si apprende da fonti parlamentari, che sottolineano come i conti siano ancora in corso e occorra attendere per una cifra definitiva. A ottobre il debito delle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 7,5 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo la cifra di 2.446,8 miliardi. Tale aumento è dovuto all'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro, da 9,8 miliardi a 55,5, che ha più che compensato l'avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche, 0,7 miliardi. Questa è la situazione delineata da finanza pubblica fa bisogno e debito, pubblicazione della Banca d'Italia. Secondo il documento, gli scarti e premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno contribuito a diminuire il debito di 1,5 miliardi. I passi che l'Unione ha mosso, con la convinta partecipazione dell'Italia rafforzando i meccanismi che presiedono alle elaborazioni di una politica estera e di sicurezza comune, muovendo inoltre attraverso la Pesco i primi passi nel campo della difesa, rappresentano una evoluzione coerente con l'obiettivo di far compiere all'Unione quel necessario salto di qualità che proprio la conferenza sul futuro dell'Europa dovrà favorire a dieci anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della presentazione degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico. Negli ultimi dieci anni 816.000 italiani si sono trasferiti all'estero. Di questi, oltre il 73% ha dei 25 anni in su e quasi 3 su 4 hanno un livello di istruzione medio-alto. Questo, quanto rilevato dal report sull'immigrazione, è redatto dall'ISTAT. Secondo il documento, nel 2018 il numero degli ingressi di immigrati in Italia provenienti dal continente africano è diminuito del 17%. Il documento evidenzia anche un aumento dei movimenti da nord verso settentrione centro Italia finalizzati alla ricerca di lavoro. Nel 2018, infatti, sono stati oltre 117.000, più 7% rispetto al 2017. A soffrire di questo esodo sono state soprattutto la Sicilia e la Campania, che nel 2018 hanno perso oltre 8.500 laureati, la cui età media era di 25 anni. Le parole dell'amministratore delegato del Milan Ivan Gazzidis all'inaugurazione della rotatoria dedicata al fondatore Herbert Kilpin. Grazie a tutti voi di essere qui oggi. Oggi è un giorno un po' inglese, con Herbert Kilpin, con Milan Football and Cricket Club e con la clima, certo. Conosciamo l'eredità, la storia di questo club. Sappiamo cosa questo club rappresenta come istituzione sociale e culturale per la città di Milano e per gli italiani. E voglio che sappiate che noi intendiamo onorare questa storia e continuare a costruirla per i prossimi cent'anni e più. E noi stiamo lavorando instancabilmente per questo. Grazie mille per essere qui oggi. Il noto procuratore Org Mendes, a margine del premio Golden Boy a Torino, ha parlato del suo assistito numero uno, Cristiano Ronaldo. Io ho detto sempre che Cristiano Ronaldo è il migliore giocatore della storia. E anche ho detto che Cristiano Ronaldo con Portogallo ha vinto l'Europeo, ha vinto la Nations League, ha giocato la prima finale nel 2004 e prima di Cristiano Ronaldo Portugal ha vinto niente, non ha vinto nessuna competizione. E Cristiano Ronaldo ha cambiato il calcio mondiale. È un campione e veramente non si può paragonare nessuno con Cristiano Ronaldo, che è il migliore di sempre. anche quando è arrivato al Real Madrid. Real Madrid a 2009 era in difficoltà perché Barcellona con la squadra che era la base della nazionale di Spagna, che ha vinto il mondiale e ha vinto due volte l'europeo. e lui, con il suo talento, con la sua capacità, ha consigliato fare una cosa, un miracolo, perché ha vinto quattro volte la Champions League, sempre un giocatore decisivo e fondamentale, perché senza lui non era mai possibile. Avversario nell'ultimo turno di campionato, Andrea Petagna potrebbe vestire la maglia della Roma durante la finestra di mercato invernale. Il centravanti della SPAL rispecchia perfettamente il candidato più serio per il ruolo di vicegeco, rimasto ultimamente scoperto. L'interesse giallorosso è concreto, ma la situazione difficile in classifica della SPAL potrebbe complicare il divorzio con Petagna. Gli altri nomi nella lista della Roma sono quelli di Pinamonti, Ken e Mariano Díaz. Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, soffre di un lieve risentimento muscolare al pettorale destro, problema per cui non ha potuto disputare l'ultima partita della vecchia signora contro l'Udinese. Il polacco si è sottoposto agli esami al J-Medical e, come si legge dalla nota pubblicata sul sito della società torinese, le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno. Ma in ogni caso resta in dubbio la sua presenza nell'anticipo di mercoledì sera a Genova contro la Sampdoria. Szczesny è arrivato tra i bianconeri nel 2017 e dalla stagione 2018-2019 subentra definitivamente a Buffon come portiere titolare. Le sue condizioni di salute, quindi, sono molto importanti per la riuscita dei piani di Sarri.